Cari amici vi parlo del nuovo numero di anti-age, la depurazione meglio del lifting, ma come si fa a ringiovanire? Come si fa a ringiovanire? Il segreto, il primo vero segreto è potare, potare. Sentitemi dei contadini che tagliano i rami secchi. Quindi, cosa sono i rami secchi? Ah dottore, ho sempre in mente quello che lei mi ha fatto, la mia migliore amica. Scusi, ma quando gliel'ha fatto quel torto? Ah, sono 7-8 anni. Potare. Tenere in vita un ricordo pieno di rabbia annichilisce le cellule cerebrali. Potare anche i bei ricordi. Ogni tanto, dottore, mi rifugio nei bei ricordi. No, i bei ricordi non ci sono più. Potare le ostinazioni. Potare le persone inutili. Potare i viaggi che non ci piacciono. Accanto alla depurazione fisica, quindi bere molta acqua, digiunare, se si può, un pomeriggio alla settimana, eliminare certi cibi, bere le sostanze che spazzano via le tossine nella mente, che vuol dire cervello, bisogna potare tutto ciò che non è funzionale al nostro sviluppo. Ma che cos'è ringiovanire? Questo mese io e Michael ci siamo occupati moltissimo, come facciamo e come fa spesso lui, nel mondo animale. Perché il mondo animale lascia grandi insegnamenti sul ringiovanimento. E molti studi sulle api mettono in luce non soltanto che ogni apia ha il suo carattere, c'è quella più passiva, quella più aggressiva, quella più flemmatica, quella che si rintana, come ognuno di noi. Rispetta il tuo carattere, se vuoi ringiovanire. Non cercare di assomigliare a nessuno. Smetti di criticarti. Le persone che si criticano invecchiano prima. E, ragionando come le api, le api a volte cambiando alveare, oppure andando avanti negli anni, si mettono a ricoprire mansioni di qualche anno prima, di quando erano giovani. Insomma, si mettono da vecchie a fare cose che facevano quando erano molto giovani. E non so perché c'è quella maledetta idea che a 70 anni, a 60, a 50, a 80, tu non possa fare cose nuove, non possa rivestire nuovi ruoli, che tu non possa intraprendere nuovi percorsi. È veramente una maledizione che perseguita i nostri giorni, le nostre notti e il nostro divenire. La maturità cosa ci insegna? A intraprendere con prudenza i nuovi percorsi. Ma a intraprendere nuovi percorsi. E l'insegnamento delle api è che il nuovo le ringiovanisce, ristruttura i loro neuroni, le loro cellule nervose. Quindi, potare le cose inutili, potare le persone che ci disturbano, potare i ricordi e avviare nuove cose che possono essere nuovi viaggi, nuovi percorsi, intraprendere nuove iniziative. Dice, ma rischio? Nella maturità abbiamo acquisito la prudenza. La prudenza del rischio, non la prudenza senza il rischio. Quindi siamo nell'età più adatta, nella maturità, per intraprendere nuove strade che si realizzano molto più facilmente dopo i 40, i 50 anni, eccetera. Buona lettura. Grazie. Grazie.